Non è stato soltanto sole e mare, ma un weekend all'insegna dello sport e del viver sano. Nelle giornate di sabato e domenica, il lungomare di Via Caracciolo si è animato con una serie di iniziative che hanno coinvolto adulti e bambini rimasti in città. Sabato mattina alla Rotonda di IAZ, in occasione della prima giornata del respiro, ai cittadini sono state offerte consulenze mediche gratuite sulle varie patologie respiratorie. Ma la principale attrazione sono stati i campi da gioco allestiti vicino al mare per il villaggio dello sport per tutti. In tanti si sono affollati in Via Caracciolo per assistere ai tornei o provare liberamente le diverse discipline sportive, dal basket al tennis, alla bici, ma anche vela, scacchi, pattinaggio, cricket ed un'arrampicata su una parete alta 8 metri. Questa opportunità ce la dà questo tipo di amministrazione perché ha favorito questa cittadella dello sport. Non solo l'arrampicata, ma tante altre discipline unite all'arrampicata. La manifestazione è stata organizzata dall'assessorato allo sport del comune con la WISP Campania per diffondere attraverso l'attività fisica uno stile di vita sano e si concluderà sabato 30 giugno con la notte bianca del tennis fino a mezzanotte. Nella giornata di ieri è stato inoltre simulato l'arrivo di un'onda anomala nell'area di Piazza Vittoria per testare il coordinamento interforze per il soccorso alla popolazione sia a terra che a mare. L'esercitazione di protezione civile è stata organizzata dal Comitato Provinciale della Croce Rossa nell'ambito del Campo Plinio 2012.